Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Vi farò vedere i miei acquisti fatti da MAC per il Black Friday Vi era lo sconto del 30% su tutto tranne sulla collezione natalizia Io ne ho prefittato e ho acquistato tre rossetti Un rossetto a prezzo pieno era 19,90€ Con lo sconto l'ho pagato 13,93€ Ho acquistato due colori rossi e un nude Cominciamo con questo rosso E' il numero 707 ed è il Ruby Woo Uno dei rossetti rossi più famosi della MAC E' anche uno dei più belli E' il classico Peck MAC E questo è il colore, guardate che bello E' bellissimo, io già l'ho indossato e non ho saputo resistere Fa parte della categoria Retro Matte Vi faccio vedere lo swatch E allora è un colore freddo, un rosso freddo da sottotono blu E' un rossetto che sta bene a tutti, a tutti i tipi di pelle E sottotono di pelle E' molto elegante Mi sembra che dal video sembra un po' più aranciato Ma non è affatto aranciato Guardate, vediamo se da vicino posso Ecco, vedete che non è aranciato Mentre qua sembra aranciato ma da qua si nota benissimo Poi l'altro rosso che ho acquistato E' il numero 612 Il Russia Red Anche adesso è uno dei rossetti rossi più conosciuti E venduti da MAC E guardate che bello E' bellissimo E' un rosso molto elegante E' raffinato E' adatto anche questo a tutti i tipi di pelle E vi faccio vedere lo swatch accanto a Ruby Woo Allora, questo è lo swatch Vedete che è più scuro? Allora qua E' sempre ha un sottotono blu E' quindi sempre un tono freddo Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio Ecco, vedete, da qua già si nota un po' meglio Che è la differenza Che questo è molto più scuro E questo è più brillante Entrambi sono bellissimi E tra l'altro momentaneamente Il Russia Red è uno dei più Diciamo Famosi Anche se già lo era In quanto è il rosetto rosso Che indossa Malefica nel film La prima io quando ho visto Malefica Ho visto quelle labbra bellissime rosse Sono andata a cercare Quale fosse il rossetto che indossasse E quando ho scoperto appunto Che era il Russia Red L'ho voluto acquistare Vi faccio vedere insieme Vediamo se riuscite a vedere due Ecco, guardate Vedete, vedete, vedete la differenza Questo è il Rubivu e questo è il Russia Red Penso che si vede Benissimo Rubivu un po' più chiaro e brillante E invece il Russia Red un po' più scuro Dei bellissimi colori Da indossare Soprattutto anche in questo periodo Delle feste Nel periodo natalizio Poi ho acquistato Invece della linea Satin Questo nude Che è il numero 802 Il Brave È un bellissimo nude Rosato Questo purtroppo Non vi posso fare vedere lo swatch In quanto è un regalo Guardate È un nude Rosato Molto luminoso Devo dire che È un nude Ho fatto gli swatch al negozio E non è di quei nude Che alcune volte spengono Appunto il volto Ma è uno di quelli Che regalano luminosità Penso di andarlo a acquistare Anche per me Tant'è vero che Mi hanno dato Penso di utilizzare Questa Diciamo questo sconto Che mi hanno dato La MAC Che dice Presentando questa cartolina Store Si ha almeno il 20% Su un prodotto preferito Quindi Penso di utilizzarlo Per acquistare questo E anche per me Per questo video è tutto Se vi è piaciuto Lasciate un like Ed iscrivetevi al canale Ciao